Milan Inter, rossoneri contro dell'Azzurri, un classico! Tutti gli ingredienti per non annoiarsi, rimanete con noi, mi raccomando! È il derby di Milano, è una partita pazzesca, amici di E-Sports, benvenuti! Questo è Milan Inter, non c'è altro da aggiungere, solo da coinvolgere con me, Lele Adani. Match che conosco bene, Pier, per averlo vissuto in prima persona. Ti posso assicurare che l'adrenalina che si prova prima di scendere in campo è qualcosa di unico, eh? Giocare di fronte a un San Siro così pieno è pura magia. Mi raccomando voi che ci state seguendo da casa e non andate via. La regia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, il 4-4-2, le linee da 4 per difenza centro-cappo e le due punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Questa è la line-up, la formazione di partenza scelta dal tecnico Merazzurro. La scelta del tecnico è caduta sul 4-4-2, mi pare chiara l'intenzione di fare la gara senza però scoprirsi troppo. Sistema tra i più adottati in assoluto, garantisce un certo equilibrio tra i reparti e può essere variato facilmente in corsa, in base anche alle esigenze. Per me sono ottime le intenzioni, ora aspettiamo il perdetto del campo. Milan che avanza, la mette nel mezzo. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti